buon pomeriggio cari amiche e cari amici vi invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione ma mi raccomando iscrivetevi al mio canale youtube abbiamo deciso dal primo di ottobre una decisione interna della nostra dei miei collaboratori e della redazione di mettere la palla di pelle e l'avete visto l'abbiamo messa abbiamo pubblicato il video con la rassegna stampa solo dopo le partite del milan quindi il giorno dopo il sabato la domenica o il lunedì in base alla partita del weekend e per esempio la palla di pelle prossima sarà lunedì dopo il match contro la fiorentina e a metà settimana il mercoledì o il mercoledì o il giovedì quando il milan giocherà in champions league questa è la nostra decisione ma veniamo al titolo che forse vi avrà sorpreso ma è un fatto così particolare morata il sindaco di corbetta che cosa è successo vado a leggere allora marco ballarini è il sindaco di corbetta e lui dice in un per salutare l'arrivo di alvaro morata alvaro morate di corbetta ea we go come se fosse fabrizio romano no non è un pesce d'aprile in anticipo il campione alvaro morata è il nostro nuovo concittadino di corbetta il bomber spagnolo neocquisto del milan sta ultimando le pratiche per il trasferimento ufficiale nella sua nuova meravigliosa casa nella nostra città lo sapete sono un tifosissimo dell'inter ma con piacere do il benvenuto ad alvaro morata nella nostra grande famiglia di corbetta e la reazione di alvaro morata è stata dura e direi dura e stizzita possiamo dire egregio signor sindaco la ringrazio per aver violato la mia privacy fortunatamente non possiedo alcun bene di valore l'unico tesoro sono i miei figli la cui incolumità è stata da lei turbata pensavo che il comune di corbetta potesse garantirmi una certa privacy invece mi trovo a dover cambiare casa nell'immediato grazie alla sua incapacità di utilizzare i social e proteggere i suoi cittadini la contro replica del sindaco sto facendo cronaca il commento lo lascio a voi la contro replica del sindaco marco ballarini che leggo qua non lo conosco il sindaco italiano più seguito su tiktok gli ha contro replicato ecco come mettendo l'immagine dello stemma dell'inter con una mano con una mano dicendogli appunto ciao ciao questo è quello che è successo stamattina così è una curiosità e non commento alvaro morata voleva abitare a corbetta possibilmente senza che nessuno lo sapesse questa dichiarazione del sindaco l'ha preso ovviamente per usare un termine calcistico in contropiede la replica del sindaco che forse avrebbe potuto essere una replica di scuse perché si è sentito violata la sua privacy è un primo cittadino di un paio di un comune di un paese di una città deve sempre garantire ovviamente privacy ai suoi ai suoi cittadini la sua replica pensavo magari che potesse essere una replica di scuse è stato lo stemma dell'inter con una manina e ciao ciao lascio a voi ogni commento per quello che riguarda invece il milan c'è una notizia non notizia indiscrezione che ho letto sul sito milan zone sembrerebbe ci fosse ci sia una offerta ogni tanto arrivano queste offerte così queste offerte teoriche potenziali ipotetiche dalla rabbia ma sembra che ci sia un club saudita e noi riferiamo questa indiscrezione interessata a ciuc vuezze ciuc vuezze ciuc vuezze giocatore fascia destra costo il milan vorrebbe introitare 18 20 milioni un giocatore che non non ha giocato non non ha disputato bene non è ben entrato nella partita contro il contro il bayern levercuse ma a proposito di ciuc vuezze sentite quello che mi ha detto eh ieri luca diddi a proposito di ciuc vuezze sì 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 è stato deludente ma entra sempre in delle situazioni borderline sta sempre in delle situazioni in cui la squadra avversaria è chiusa non ci sono spazi non entra mai in situazione di campo aperto non entra mai cioè anche ciuc vuezze lo metti con l'everkusen sì per carità di dio ci sta ma questo giocatore è un giocatore umorale lo devi mettere in delle situazioni in cui lui fa la giocata allora prima di metterlo con l'everkusen lo devi recuperare mentalmente e poi lo puoi mettere con l'everkusen contro il lecce che noi eravamo a vedere la partita la metti tardi fine del primo tempo stai 3 a 0 riparti con con ciuc vuezze campo aperto mila la partita chiusa lo ha bisogno di una situazione positiva bisogno di rischiare la giocata senza essere dar guido ha bisogno di sbagliare la giocata bisogno di fare la giocata una volta che mi hai recuperato il giocatore me lo metti in campo contro il leverkusen e poi pretendere che incida ma non quando il giocatore mentalmente non è idoneo per giocare una partita così è una è una diciamo una ipotesi quella di un giocatore ci sta che vuole non riesce in questo momento a trovare la giocata che la giocata della svolta la giocata il colpo il dribbling mette sempre un grandissimo impegno però si vede che gioca non lucido un pochino confusionario figlio non tanto dalle delle sue doti tecniche ma proprio dal figlio della sua voglia di fare non riuscire avere solo questo spazio e l'ha sottolineato bene luca diddi avere questo spazio e cercare nei pochi minuti di diciamo strabiliare guadagnarsi il posto mettere dei dubbi all'allenatore si tratta solo di stare un pochino più calmo le mezzi tecnici ci sono indipendentemente dalla possibilità poi di andare per 15 18 milioni so già che il parere di tutti i tifosi è mandalo perché non è riuscito in questo momento a essere il pulisic della situazione giocatore arrivato con qualche dubbio perché la sua i suoi ultimi anni al celsi non erano stati brillanti anche lui attraversava delle fasi belle giocate bei gol ma poca continuità nella grandezza cosa che ha trovato a milano e quindi in questo momento la situazione psicologica perché bisogna parlare anche di situazioni psicologiche di ciucuese non è di un giocatore tranquillo per quello che riguarda invece la partita contro la fiorentina bisognerà capire a proposito di ciucuese quali saranno le scelte di paolo fonseca il problema è riuscire a inserire i giocatori senza diciamo snaturare o far scendere di livello il gioco della squadra che ha raggiunto eccellenti livelli proprio con gli undici che abbiamo visto essere in campo nel derby e che poi hanno giocato una buona partita anche contro il lecce anche se poi in effetti c'erano stati dei 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 qualche piccolo ritocco forse sul piano della manovra però alla fine avete visto che abra memorata sono stati decisivi nei flash in quei minuti che sono serviti per battere la formazione di luca gotti quindi bisogna capire questo mettiamo sempre pavlovice per quello che riguarda tomori è un altro di quei giocatori che non riesce ad arrivare al livello dello scudetto degli tomori dello scudetto bei bell'impegno bei recuperi ma la attenzione la ferocia nella nella nell'anticipo non è ancora prendiamo dei gol proprio e io vado a prendere il gol annullato perché per me è gol poi chiaro era in fuorigioco giusto annullarlo ma la situazione del cross e la mancanza di reattività lì e la rete poi del giocatore del buyer non è quello che i tifosi del milan si aspettavano da tomori poi per fortuna è stato un giocatore è stato diciamo decretato il fuorigioco e quindi questa è la situazione di tomori che deve migliorare al suo posto visto che gabbia in questo momento è una certezza assoluta e ciao deve ritornare a guadagnare il suo posto è proprio eventualmente pavolici proprio per tomori per quello che riguarda il resto della formazione io non so io che tolga le au e se poi abram e morata stanno bene io credo che per il resto sarà la formazione che ha affrontato l'inter e battuto l'inter anche perché ha detto che fonseca non vede ancora la necessità di grandi cambiamenti per quello che riguarda il modulo e la filosofia della squadra quindi può darsi che sia questo il desiderio di fonseca continuare su questa linea b c'è un po di nervosismo ovviamente perché quando si torna a guardare un attimo la champions league si vede questo milan al trentaduesimo posto signori mancano ancora diciotto punti sei partite quindi speriamo che il milan tolga questo nervosismo e incomincia incominci ad arrivare in posizioni più consone al suo blasone e al suo livello di gioco nel video di questa sera vi preannuncio parlavo ieri con luca bianchin che vi metterò lo schema del 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 diciamo del cammino successivo delle squadre impegnate in champions league uno schema che non riguarda la squadra dal 25 al 36 che sono quelle eliminate ma quelle fra le prime 24 dove verranno posizionate è uno schema molto interessante molto esemplificativo lo metterò anche su instagram perché così tutti possono capire non è ancora il meno io non l'ho visto la dico scoperto ma l'ha voluto comunicare luca bianchin della gazzetta dello sport e mi interessa mandarvelo perché è veramente uno schema interessante se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like iscrivetevi al canale youtube di carlo pelle gatti attivate la campanella e scaricate il link in descrizione